Allora, oggi faremo gli esercizi dello stick control, pagina 8, numero 1 e 2, ovvero introduzione alle terzine, ok? Alle terzine in crome, quindi stiamo facendo ottavi. Vi faccio vedere com'è l'esercizio. Esercizio 1 e 2, pagina 8 dello stick control, ok? Pronti? A 80 bpm. 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 Quando vi sbagliate, vi fermate e ricominciate dalla match grip, cominciando con la mano destra. 80 bpm. Rilassati. L'esercizio 1 due volte, l'esercizio 2 due volte, per ripassare all'esercizio 1. Ma attenzione, quando passate da un esercizio all'altro, se ci fate caso, per esempio dall'esercizio 1 all'esercizio 2, ci sono due colpi uguali. Due volte di sinistra, per ritornare dall'esercizio 2 all'esercizio 1, due volte destra. Ok? Finito l'esercizio, me lo rimandate, come sempre, 30 secondi di video, non più lungo. Ok? 3, 2, 3, 2, 1 e stop. Ok? Ciao!